E' l'ultima possibilità 10.000 mi piace ragazzi e scrivete qui sotto il risultato di Juventus Napoli Bella ragazzi bentornati sul mio canale Siamo qui oggi con questo nuovo video Oggi ragazzi ovviamente non sono da solo Come potete già leggere dal titolo Sono con FuseGamer Bella ragazzi carichi come non vai da FuseGamer Oggi ragazzi siamo qui per battere Tattino speriamo non solo oggi Ma anche sabato Speriamo Ragazzi come ben sapete come già leggete dal titolo Juventus Napoli finalmente Cioè finalmente in realtà la seconda giornata E' un po' pesante come partita Però Juve Napoli è sempre Juve Napoli ragazzi Quindi spaccate il like Ditemi qui sotto come finirà questa partita E adesso io sfiderò FuseGamer in un gioco molto carino Che mi invito a scaricarlo Nel primo link in descrizione ragazzi Adesso ve lo andrò a introdurre Ragazzi questa qui è la seconda versione Io andrò a sfidare FuseGamer Sul campo di battaglia Ma prima HeadBall2 HeadBall2 Vi spiego un po' come è questo giochino Intanto potete aggiungere tutti gli amici che volete C'è la sezione amici Poi squadra Potete creare diciamo la vostra squadra Unirvi a una squadra Poi il personaggio invece Guardate qua che figo Io l'ho già personalizzato Però potete personalizzare come volete Io l'ho fatto tutto azzurro Occhiali E poi tutti gli accessori Ecco qua Io l'ho fatto un po' tipo ghiaccio Un po' strano Però mi piace E' figa sta cosa Regalo E' tutto leggendario Comunque potete anche shoppare Ma soprattutto ragazzi Potete aprire anche Le carte per migliorare il vostro player Il vostro giocatore Allora fa vedere un po' Andiamo nel negozio Apriamo subito una carta Prima di sfidare Fuse Ok Apriamo una leggendario Un pacco leggendario Tipo Shironaldo Ok Il turco Valery Ma che sono ste cose Va bene regà Ma lo potenzio Vabbè io schifo Tutte le cose Ok Ok Questi qua sono tutti i potenziamenti Per il mio giochino ragazzi Vabbè Lasciamo stare sta cosa Adesso andiamo a sfidare Fuse Allora amici Ok ragazzi Fusegamer mi ha invitato Quindi accettiamo la partita E vediamo di battere Fuse Sarà Napoli Juve Perché lui ci ha già giocato ragazzi Comunque io c'ho Ronaldo Se vedi bene Io arrivo da tutte le sconfitte Come puoi ben vedere Allora io sono questo 3 2 1 Vai Si va Vai Tati Io vincerò Per il Napoli No Vediamo un po' Fuse cosa fa Comunque ragazzi Scusate il disordine Ma Tati non mi dice Di fare questi video A mezzanotte E vabbè Andrea adesso Che stai facendo Strunzo Autogol Andrea che stai facendo tu Ho capito Tu mi fai Gli effetti speciali Qua a Bari Aspetta Te ne faccio Oh vedi Però Ma c'è anche io Sono Tatino No Andrea Dai però No Basta E questa è la Juve ragazzi Tu a 0 E questa è la Juve No 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 Godo No Che culo Si vai Tu a 1 Andrea Avete la palla Ora non la vedi più Bucchini Mamma Mi sono allenato ragazzi No Godo Solo lui Ecco 3 a 2 Boom Godo E che sta succedendo Andrea Boom Andrea però devi allargare la porta No È capito Come faccio a pararla Aspetta Aspetta No Si 6 a 3 Mamma mia No 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 Goal vai 6 a 4 Vai 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 ce la facciamo Vai 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 No No Cazzo No Si 6 a 4 Iguain Che c'entra Iguain Ah beh è vero C'entra sempre Iguain Mi chiamaci pur Iguain 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 No 9 a 5 Cavolo Boom No No Vai vai Iguain Vai Iguain No Perso Fischio finale Vabbè dai Abbiamo vinto ragazzi 9 a 5 Si Fiorentina Napoli Vabbè sembrava eh Guarda quanti gol Però è vero avete subito tanto contro la Fiorentina Chissà Però abbiamo vinto Vabbè vedremo contro la Juve ecco come finirà ragazzi Comunque Andrea ti ho battuto quindi Se vuoi la rivincita ragazzi superiamo i 10.000 mi piace per la rivincita Mi raccomando iscrivetevi anche a Fusegamer Vi lascio il link in descrizione mi raccomando raga Spaccate il like ringrazio Andrea Bella raga Andrea hai perso Eh lo so c'è ti chiedi Avevo giocato insieme a te lo so Vabbè Vediamo come finirà Speriamo che vinca la Juve ragazzi Speriamo di no Se vedete Gonzale Iguain nei commenti Perché segnerà lui raga me lo sento No no Andrea se segna Iguain Eh se segna Iguain Fai una cosa scema Vabbè scrivetelo nei commenti Se segna Iguain faccio così nella reaction Ok vabbè voi scrivete una penitenza per Fusegamer Qui sotto nei commenti Se segna Iguain Dalla di Fusegamer è tutto Noi ci rivediamo nel prossimo video Bella ragazzi Bella ragazzi Ciao